A Carrara con l'obiettivo di cancellare due K.O. di fila e rilanciarsi, i cambi sono soltanto due rispetto all'infausta partita con la re canatese Aloy e De Marco per squizzato e da gasso nella carrarese, c'è Panico, novità sostanziale, deciderà il match ex Teramo cresciuto nel Genoa al posto di Morosini, viene schierato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime. del maltempo in Toscana. Si comincia così con la combinazione tra De Marco e Aloy, il grandestro, il tracciante, forse la deviazione di Bleve, palla sul palo, dunque Pescara un passo dall'avvantaggio ma al 28esimo, attenzione a questa grande giocata di Panico che riceve palla da Cicconi, Manuel Cicconi, Panico, si accentra interno destro, nulla da fare per il portiere Pescara, Plizzari, davvero un gran bel gol, forse si poteva fare qualcosa in più in fase iniziale, di azione, però insomma il gol è stato molto bello e poi a fine primo tempo il grand sinistro di Tugnov con la risposta di Bleve. Siamo nella ripresa, comincia benino il Pescara con questo sinistro di Merola centrale, nessun problema per Bleve che blocca a terra all'altezza della sua area di competenza, poi ancora una triangolazione, alza la mira Merola all'altezza dei 16 metri dell'area di rigore Toscana. Siamo al 54esimo, continua a pressare il Pescara però si attenua questa pressione perché poi nella parte finale è Simeri che prende il posto di Capello a avere la palla del 2-0, tiro centrale e poi ancora il destro di Schiavi, l'argentino con palla deviata che termina di un soffio alla sinistra della porta difesa da Restremo Biancazzurro. Poi nel finale 85esimo ancora Merola con Bleve che si salva in due tempi, siamo a 4 minuti dall'epilogo, ancora un'azione in contropiede, l'attaccante della Carrarese Panico che fallisce il 2-0 su assist del suo compagno di squadra Simeri, finisce qui 1-0 per la Carrarese, terzo K.O consecutivo per l'11 di Zeman, il quarto nelle ultime sei partite.